calegnaia 14 settembre 2019 un'altra bella giornata di sole e di mare estratto da questo mese di settembre 2019 mare calmo acqua fresca e ghiaccina ma però in acqua con la muta shorty si stava di molto bene belli comodi zero meduse tanto sole che però non bruciava più e sulla spiaggia si incominciavano via via ad addensare parecchie persone perché oggi è giorno festivo un saluto ciao